La Balfin La Balfin nasce da un'esperienza trentennale di due aziende leader nel settore, soprattutto nasciamo come estrattori, produttori e commercianti di Ardese italiana e abbiamo costituito la Balfin proprio per avere una sorta di dinamicità e essere anche più flessibili sul mercato e proporre anche nuovi materiali. Quali limestone, quarziti, marmi, graniti eccetera. Questo per dare più servizi comunque ai nostri clienti e proporre non solo un materiale ma essere più competitivi nella varietà. Partiamo dall'estrazione, quindi dalla cava e dalla montagna direttamente tramite dei procedimenti che sono poi la segagione o lo spacco perché ci sono alcuni materiali che si prestano più in determinato tipo di lavorazione piuttosto che un altro, dalla quale poi noi ricaviamo tutte le pietre che occorrono per i pavimenti, i rivestimenti, la strame eccetera. Tutto questo avviene cercando di non alterare quello che è la superficie naturale della pietra. Questo per assicurare comunque ai nostri clienti che la pietra che noi trattiamo è assolutamente naturale in tutte le sue fasi. Noi appunto, come dicevo, ci approvvigioniamo direttamente dalle migliori cave, cerchiamo di fare una selezione dei materiali in modo da discostarci un po' da quello che sono poi la produzione di massa eccetera. Quindi cerchiamo di assicurare un certo tipo di qualità al nostro prodotto, chiaramente perché poi sono prodotti che comunque hanno anche le nostre aziende concorrenti, noi cerchiamo di trovare quella particolarità che ci possa distinguere. Noi appunto cerchiamo di essere molto dinamici e flessibili, cerchiamo di avere sempre un occhio sul panorama internazionale delle pietre, tutto ciò che può offrire il mercato e cerchiamo di essere aggiornati, cerchiamo di rispondere alle richieste dei nostri clienti comunque in maniera diciamo dinamica e veloce, anche perché molte volte molte forniture, molti progetti si giocano proprio sulla prontezza di risposta e non tanto poi sul prezzo. Chiaramente poi il prezzo è basilare soprattutto se andiamo a parlare di progetti di grossa entità dove si consumano volumi di materiale. Noi siamo in Liguria, alle spalle di Genova, nella regione della Val Fontana Buona, che è una regione rinomata proprio per l'estrazione dell'Ardesia dove ci sono anche le nostre cave e gli uffici e il magazzino. www.balfinstone.com www.balfinstone.com